Spettatori in Coppa Italia direttanti, non scederà in campo domani il Corato, servirà il turno di riposo previsto dal calendario della prima giornata della terza fase. Terra addocchio naturalmente però, la sfida in programma sul sintetico del San Sabino di Canossa fra Barletta e San Severo, avversari poi dei neroverdi proprio nel triangolare che metterà in palio l'accesso alla finale regionale. La squadra di Massimiliano Olivieri affronterà i biancorossi di Francesco Farina in casa e i foggiani in trasferta. L'ordine degli incontri verrà stabilito in base all'esito della partita di domani. Il Corato nel frattempo si gode la bella prestazione di domenica scorsa in campionato contro il team Ortanova e soprattutto la vittoria per 2-0. Gol di Daiello in chiusura di primo tempo e Ngom in apertura di ripresa. Voglio fare i complimenti ai ragazzi perché comunque abbiamo fatto un'ottima prestazione sin dall'inizio. Abbiamo cercato di aggredire altri, di fare il gioco nella metà campo avversaria. Poi comunque qualcosina abbiamo lasciato perché loro hanno avuto una grossa occasione dopo che noi ne avevamo avuto tre o quattro. Però è il rischio che ti devi prendere, devi calcolare contro una squadra sbarazzina come questa, come l'Ortanova. Devo dire che comunque c'ha dei ragazzi interessanti. Settima vittoria su otto partite in eccellenza per il Corato che continua così l'inseguimento alla vetta del Gironea, la capolista Barletta. Dista sempre tra lunghezze di ritardo. Domani dunque i neroverdi osserveranno il turno di riposo in Coppa Italia di Lettanti. Da domenica poi partirà un vero e proprio tour de force per la squadra del presidente Giuseppe Maldera a cominciare dall'impegno esterno contro un Manfredonia, imbattuto da quando c'è Franco V in panchina. Siamo a Manfredonia e Manfredonia è un'altra partita ostica. Sì, come dici bene, ci sono in tre settimane cinque partite compreso la Coppa dove c'è il rischio anche di incontrare il Barletta due volte nella stessa settimana. Quindi ci dobbiamo preparare bene, abbiamo la fortuna tra virgolette di riposare il primo turno quindi possiamo allenarci sulla settimana tipo sia la prima che la seconda e poi sicuramente ce la giocheremo sia abbiamo in casa il San Marco poi abbiamo la partita di Coppa e poi avremo scontro col Barletta. Però noi una partita alla volta perché quella che deve venire è sempre la partita più importante e non bisogna mai sottovalutarla.